Primo dei tre appuntamenti ieri sera presso la scuola Luigi Sturzo di Biancavilla, inserito nel cartellone degli eventi della rassegna stilografica di primavera. L'incontro fa parte delle manifestazioni della seconda edizione della settimana del libro, organizzata dall'associazione Sturzo di Biancavilla, in collaborazione con alcune scuole e associazioni di Adrano e Biancavilla, tra le quali le associazioni Ricominciare, Penelope Sicilia e il Cus Catania, con il patrocinio del Comune di Adrano. Il tema principale dell'evento è la resistenza in tutti gli ambiti sportivi, dall'atletica leggera al calcio, passando per tutte le altre discipline. Attenzione è stata data alle modalità di allenamento della resistenza, i metodi corretti e non. Durante la serata è stato illustrato dal professore Alfio Cazzetta, docente dell'Università degli Studi di Catania, il suo ultimo libro, La resistenza negli sporti individuali e di squadra. Io ho avuto l'idea di scrivere questo libro perché dentro di me ribolliva qualche cosa sportiva, si atteggia la cultura sportiva con parole sempre uguali, ma che non hanno un significato vero. Presente all'incontro, tra gli altri, il professore Ignazzo Russo, responsabile Grandi Eventi Cus Catania e Ada Vasta, delle associazioni organizzatrici dell'evento. La parola resistenza può sembrare qualche cosa di semplice, come molti pensano nell'ambito della metodologia dell'allenamento. Invece è qualche cosa di molto complessa e ha delle componenti diversificate che permettono poi di raggiungere quelli che sono gli obiettivi finali, che sarebbe il risultato tecnico. Ad introdurre l'argomento è stato il professore Sergio Marra, dirigente scolastico della scuola media statale Sturzo di Biancavilla. Ho sposato questa iniziativa di alto valore culturale e sociale perché in qualità di dirigente scolastico della scuola secondaria Sturzo di primo grado, qui di Biancavilla, ritengo che questo faccia parte di tutte quelle iniziative di formazione e di promozione sia del territorio che della scuola. La scuola è un'istituzione che si apre al territorio e quindi ben venga se praticamente ci sono iniziative qualificanti come questa. Moderatore del dibattito l'avvocato Elena Cassella, presidente di Penelo, poi Sicilia. A conclusione della serata sono stati premiati i ragazzi vingitori dei premi del quiz e il libro. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno accompagnato durante i nostri incontri, come ad esempio l'Etna Wild, i V-Party e tutto il suo staff, il Club Leo, l'associazione Penelo per ricominciare il CUS, queste tre in particolar modo per l'evento di oggi che è il primo incontro di stilografiche di primavera. Ma volevamo ringraziare in particolar modo Etna Comics e Aquaria che ci hanno permesso attraverso i loro gadget e premi che abbiamo messo in palio nel Quizami di cui stasera c'è stata la premiazione, di coinvolgere in maggior modo i ragazzi.